ciao ragazzi buongiorno buongiorno vediamo se riesco a farvi il vlog oggi come vedete sono sempre la postazione però la ho lì e adesso già esco che poi domani sera sono qua a fare il primo mezzoturno di ambientamento e poi domenica si fa tutta la notte ma ovviamente vi aggiornerò allora buongiorno buongiorno guardate qua i nostri tulipani qua è già tutto tutto pronto domani si aprono le danze aprono i primi locali le prime i primi alberghi primi campeggi e io domani sera sono lì fare le prime ore e poi con domenica sono tempo pieno tutta la notte eccoci qua allora molti mi scrivono della diretta del e purtroppo le dirette su telegram poi si cancellano rifatti cerco di evitare di farle lì per quel motivo lì ogni tanto quando c'è il buco magari la butto su soprattutto quando c'è da parlare di cose un po un po delicate come abbiamo visto mi sa che ho rotto tutta la camerina come abbiamo visto po di giorni fa e come abbiamo visto nella diretta ieri parlare di certi argomenti sui social ordinari si viene facile divenire come dire censurati nella migliore dell'ipotesi o se non segnalati da qualcuno che si infastidisce perché c'è sempre qualcuno che si infastidisce di qualcosa per cui va bene come si dice ci vuole pazienza e allora ne abbiamo parlato così nella diretta telegram ed eccoci qua eccoci qua siamo al mercato stamattina c'è al mercato ma manca al banco che mi serviva ai 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 non c'è più e volevo visto che eravamo qua volevo trovare una cosa ma non c'è non c'è o si è spostato o non viene più adesso vedremo un attimino com'è la situazione volevo dire sì ecco ci sono magari argomenti possibili di censura ma ecco ma abbiamo visto su telegram si può fare mi spiace che non resti poi la diretta devo vedere se trovo un modo per farla rimanere magari facendo il premio non lo so adesso ancora un paio di giorni per organizzarsi bene poi vedremo i ritmi che i primi primi giorni ritmi come saranno tanto avete visto una nuova nd e anche questa un po diversa delle solite e piano piano attraverso questo percorso sarà un percorso di conoscenza di apprendimento di di vedere quindi chi mi conosce solo per il pirata venga a trovarmi sul primo canale per diamanti di coltelli ho aperto nuovo canale che è il guru delle lame trovate sempre tutti i link in descrizione anche per quelli che mi chiedono se volete contribuire dare una mano c'è la people in descrizione potete usare carta di credito di debito paypal bonifico quello che volete se volete dare qualche obolo intanto vediamo se riesco anche organizzarmi con con qualche tecnologia per poter essere più operativo anche in questa stagione estiva sia anche primavera ma qua appunto si inizia domani e signori miei fino a novembre sarò sempre sotto intanto per oggi blog lo finisco qua con questa visione di un lago piatto è un po così uggioso mi dicono anche che in settimana prossima ci sarà un piccolo colpo di inverno un calo di temperatura e ci vediamo la prossima ciao a tutti da armando ciao